Brutto inizio di giornata e di lavoro, questa mattina è arrivato qui nel suo bar, il Desartiste di Viale Bovio. E niente, porta spalancata, ho pensato a una dimenticanza all'inizio, sono entrato, sigarette, mobile sigarette svuotato, mobile vinci svuotato e cassa vuota. Un danno per? Così, a occhio 35-40 mila euro. Commento? Eh, non so che dire.